In pattuglia con la polizia locale, sulle ambulanze con i soccorritori e in dogana con la guardia di finanza. Si è chiusa oggi la terza edizione del progetto Ragazzi on the road che si è svolta a Livigno, uno dei comuni pilota nella provincia di Sondria, ad accogliere questa iniziativa. 15 i ragazzi del luogo, di età compresa tra i 14 e i 21 anni, coinvolti nel progetto che da venerdì ha permesso loro di vivere sul campo il lavoro della polizia locale, della guardia di finanza, di vigili del fuoco, soccorso alpino e pronto soccorso. I ragazzi si sono affiancati al lavoro quotidiano degli agenti di polizia locale, pattugliando in bici i percorsi ciclabili di Livigno, anche con il compito di cercare di sensibilizzare i coetanei su vaccino e green pass e hanno avuto modo anche di salire sulle ambulanze a Reu. E nella serata di sabato alcuni di loro hanno avuto la possibilità di partecipare alle pattuglie notturne della polizia locale, svolgendo i controlli sulle violazioni al codice della strada, l'utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti. Obiettivo dell'associazione Ragazzi on the Road e del comune di Livigno, che ha ospitato il progetto, trasmettere ai giovanissimi la cultura della prevenzione, vivendo giornate al fianco delle forze dell'ordine e dei seccorritori, impegnati per la sicurezza di tutti. I referenti per l'attività sono il comandante della polizia locale Cristoforo Franzini e il responsabile del pronto soccorso di Sondrio e provincia, dottor Gianluca Marconi.